...e Cattia Moro, perché erano i juniores, poi per le donne lì, Cattia Moro, Bernardo Olessia, Guerrera... Gli attenti che parteciperanno all'ultima gara in programma di questo ciclo cross di San Martino, giunto la sua ventipresima edizione, a ricordo di una grande, a ricordo di Gino Bruno, Chiara... ...dai Giulio! ...dai Alex! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.